Dopo il trasferimento del mercato settimanale dal centro cittadino di Agropoli presso la nuova struttura SITE in località Madonna del Carmine, si è ritenuto opportuno istituire un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico di linea urbano, identificato come servizio urbano area mercatale, che soddisfi il bisogno di mobilità dell'utenza diretta all'area mercatale ubicata in via Madonna del Carmine, località Vigna Grande, ogni giovedì della settimana. Per tali ragioni, l'Aggiunta Comunale ha ritenuto opportuno far richiesta all'Ufficio Attività Economiche e Produttive di presentare alla Regione Campania e al settore trasporto e viabilità della provincia di Salerno apposita richiesta di parere per l'istituzione del servizio aggiuntivo di trasporto pubblico, identificato come servizio urbano area mercatale, con allegato programma di esercizio analitico, completo di orari, percorse e fermate per l'acquisizione dei relativi pareri e procedere successivamente con onere a proprio carico all'affidamento del servizio.